O ti distingui o ti estingui e c'è solo un modo per distingersi, far crescere le persone, farle crescere a livello culturale. Qui è capitale che non sia stato creato da un atto di intelligenza umana? Il valore è creato tutto da qua, un atto di intelligenza umana, fondamentale. Se un'azienda vuole crescere, su una cosa bisogna agire, questo. Chiuso il circolo delle idee, chiuso il circolo della ricchezza. O facciamo girare le idee all'interno dell'azienda, o altrimenti la ricchezza non si produce più. Chiuso il circolo delle idee, chiuso il circolo della ricchezza. Chiuso il circolo delle idee, chiuso il circolo delle idee, chiuso il circolo delle idee, chiuso il circolo della ricchezza. Chiuso il circolo delle idee, 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 chiuso il circolo delle idee.